ok eccoci qui raga buonasera con i miei capelli bellissimi avete visto il primo video con i capelli tagliati ho detto quelle due giorni la mattina e pomeriggio l'avete visto andate a guardare e non l'avete visto ho parlato bene me ne prego e continuiamo andiamo avanti e diciamo mettete mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella bene a tutti ragazzi tanti baci del vostro enrico pasquale pratico tutti e l'accendo solo sono qua a fare o se stasera volevo fare e porto o migo io penso sempre tutti i giorni e voi ancora non avete mandato i messaggi in privato su disco su telegram o altre parti e quell'altro youtube le persone mettono una foto davanti così non vedono quelle cose che fanno i mascoli e i femmini paccarosi io mi dissocio youtube volevo dire così non è che mi cancelli video e mi scusa e perdonatemi e non so serve il computer il pc e fai quello programma e metti una foto davanti della telecamera di quelle persone e la mia si vede la faccia e da loro mucciata con la foto così non vedere tutte e ci sono persone quelle con i vestiti e non quelle senza vestiti devo fare prima i controlli e dopo vi faccio sapere che non si devono ma non capisco perché fanno così su omicol vabbè e loro lo fanno a me me ne frega e io voglio parlare con le persone omicol o su om tv una trap o così faccio compagnia a voi e voi a me beh a voi piace io lo porto lo conoscete voi che cos'è omicol e ci sono tutti persone tutto mondo che hanno vanno su internet su google e scrivono omicol voi mettete il vostro nome dove abitate e la lo scrivete lo resta lì e voi andate in in chat o video vuoi fare la telecamera il qua c'è scritto o video la telecamera o chat volete scrivere potete fare chat volete vedere a faccia con la faccia l'orla con la faccia e voi qua e ci sono queste due vabbè andiamo avanti diciamo altre cose da tanti baci ciao a diego saluto tutti promesso che facciamo i saluti vocali e e i video saluti in privato che me lo dite tante persone e sono troppi e piano piano le faccio tutti no la sera o un po' con la mattina prima vado al lavoro quando vengo mi faccio la doccia dopo faccio i saluti pomeriggio, la sera così è buono raga no che voi mandate i miei messaggi quando rispondo rispondo a voi facciamo i saluti ok io so parlare bene non avete visto la mia lingua italiana, calabrese, dialetto sto parlando bene ci sono persone che non la capiscono ci sono persone quelle che la capiscono questa è la felpa no, questa è la giacca della regina e qua è il coso della regina questa me l'hanno regalata quando ero ragazzo a Mello di Porto Salvo quando ho fatto il compleanno l'anno vecchio l'anno scorso ditemi voi volevo tornare indietro nel 2010 non si può tornare più si va avanti siamo nel 2021 siamo a febbraio è così la vita raga boh dai andiamo a fare col cellulare raga non pensate che a me mu di ciro suo amico ci sono persone strane che fanno cose paccarose puntini puntini mu di ciro a me in privato e vi voglio bene arrivo aspettate dieci minuti prendo il cellulare vengo a mostrare e parliamo dai ok sentiamo i vocali ciao Enrico Pasquale Pratico Forza Juve stasera fino alla fine fino alla morte Enrico devi iscriverti sulle stanze entri nella cam forza Juve regina Italia che tipo tre squadre io raga mi stanno aspettando quando fai un prossimo video su Instagram saluta Alex Alex di Montenero mi raccomando ciao Enrico anzi fammi una cortesia Enrico fai un saluto direttamente qua su Telegram saluti Alex di Montenero di Bisaccia devi dire ciao Alex di Montenero di Bisaccia così io lo giro è un tuo fan è un tuo fan ciao Enrico grazie bello ok e io gli mandai il video saluto un saluto ho mandato il video saluto e saluto quella persona aspettate andiamo in un'altra parte oi raga ho salutato a tutti io di questi giorni quando carico i video voi dite a me Enrico quando fai i nuovi video quando porti i giochi quando porti organetto della noce i tamburelli la chitarra la ginnastica a terra ancora la ginnastica a terra la devo fare quell'altra ginnastica l'ho fatta l'avete visto in video manca solo quello a terra la ginnastica e vediamo e altri video in un'altra maniera vado in giro o sopra o là sotto o là dei gallini la devo portare raga dai mi faccio questo regalo a voi promesso che le porto dai non arrabbiate non siete tristi fate un sorriso per me che vi voglio bene che mi seguite guardate i miei video quando mangiate o a casa studiate a comprare la spisa o quando andate a scuola che uno ragazzo ha messo un video mio a scuola c'erano i suoi compagni e l'hanno messo in televisione dello schermo a scuola me l'ha detto lui in privato su telegram uno ragazzo e io gli dico grazie a lui come volete voi e beh guardate il mio vecchio video quello famoso del 2014 dopo intervista del 2015 dopo Natale del 2018 quando ho fatto con quello e ora siamo del 2021 e andiamo avanti vorrei rispondere a lui e vengo così chiudiamo il video ancora lo continuo mettete mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella bello a tutti i ragazzi e forza regina forza Italia forza Juventus fino alla fine e fino alla morte baci mi dissocio ah raga io voglio dire una cosa a me mi piace e le persone che mi mandano i vocali con la loro voce e io gli mando mi piace continuate così voi mandate i vocali e io faccio i video a voi in privato i saluti fidanzata famiglia compagni di scuola sentiamo questo ciao Enrico volevo chiederti se ci salutavi a me e mio amico Giacomo io sono contento che mi mandano i vocali li voglio bene a tutti e rispondo alle persone non come quell'altro e vabbè lo sapete arrivo così finisco ok raga vediamo mi hanno mandato altri messaggi o vocali anche io ti voglio bene Enrico a Dario mi ha scritto ok aspettate mi ha detto una cosa questo oh raga sono qua aspettate che ora lo finisco e quando vuole lui il mio vocale che l'ho mandato a loro su Telegram sono contento vediamo che mi dicono vediamo che mi scrivono grazie Enrico io gli dico prego che dopo faccio una bella diretta con loro ho una chiamata vabbè ok raga chiudiamo il video quasi faccio il telefono così parlo con loro faccio i saluti faccio anche le foto così le pubblico andiamo in cucina e aspettate metto questo telefono sopra il letto ci vediamo lì ok eccoci qui ha fatto la tosse senti la mia famiglia è già a letto e vabbè ora metto pausa e faccio le foto e ci vediamo tra poco e chiudiamo il video vi voglio dire mettete mi piace iscrivetevi al canale qua sotto e attivate la campanella bella a tutti ragazzi e vi voglio bene dai vati bravi vabbè gli occhi si chiudono e si aprono e boh la mia parola mi dissocio ok sta registrando volete lo chiudo qua o andiamo nella mia stanza o se lì è meglio c'è il mure blu l'avete vista tutti i stanzi solo una no l'avete vista la stanza di pranzo è quella la devo giustare piano piano faccio i lavori tutti i giorni faccio i video sotto qua mangio guardate le zone parlo quando è ora vado sopra a dormire la mia famiglia dorme da sola e io sono grande posso dormire da solo sopra no sotto non pensate cosa strana io dormo sopra e la mia famiglia sotto qua mi scuso e perdonatemi e mi dissocio di nuovo vabbè andiamo aspettate no non voglio chiudere metto pausa voilà raga buonanotte e sonnitore a tutti e ci vediamo alla prossima tutti i giorni attivate la campanella così e iscrivetevi al canale così avete la campanella attivata così voi sul cellulare quando si carichi il video vedete che arriva la campanella del vostro cellulare quando è pronto i video quando si carica piano piano che la mia connessione è così sono in montagna ho 28 anni e sono di Motta San Juan per un indietro di Reggio Calabria e poi dico io vi auguro tanti baci un sorriso tutto per voi la volevo dire un sorriso a tutte le persone che mi vogliono bene e beh ancora devo trovare la fidanzata è un bordello c'è il coronavirus è la quarantena non felice questo bordello non posso finire trovare la fidanzata per me io ho 28 anni forse è bello me la prendo l'età la stessa o in meno in più vabbè io chiudo e vi saluto e tanti baci e va dai bacio ciao raga faccio la felpa e vado a passarmi il tempo bella del vostro Enrico Pasquale Pratico con tutti e le accendo sulla alla prossima ciao ciao aspettate mi metto qua così così dai o in là si vede la mia ombra vabbè mi metto così ciao alla prossima